Il servizio civile è un'esperienza formativa per tutti i ragazzi che lo compiono e ancora di più se un giovane sceglie di effettuarlo per occuparsi dei problemi della propria città come Genova. Nella nostra città ci troviamo ad affrontare anche il piano emergenza scuole. Anche questa è un'esperienza molto bella pur nella sua tragicità perché ci sta aiutando a compiere dei gesti concreti. Consiglio a tutti i ragazzi di vivere questa esperienza di servizio civile, mettetevi in gioco. Nicolás lo ha fatto, a breve tocca agli altri. Il 28 settembre scade il nuovo bando nazionale per il servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano mettersi a disposizione per 12 mesi scegliendo fra oltre 5.000 progetti e impegnarsi in un'esperienza formativa che magari apra qualche porta per il futuro. Io credo che i nostri ragazzi abbiano una grande voglia di partecipazione, siano una generazione molto più attiva di quanto a volte la raccontiamo. Sta a noi, alle istituzioni, dargli le opportunità. Infatti il servizio civile universale è una di queste opportunità. L'investimento di quest'anno è di oltre 300 milioni di euro e coinvolgerà 53.000 ragazzi. Non c'è uno stipendio ma un rimborso di 433 euro al mese. Questo perché il servizio civile non è un lavoro per quanto possa assomigliargli. Assistenza ai più deboli, cultura, protezione civile sono solo alcuni dei campi di impiego. Ci sono orari e responsabilità e tutti i progetti prevedono una formazione prima generale e poi specifica. Sono anzitutto ragazzi normali, l'età più gettonata è quella tra i 23 e i 25 anni. È una utile esperienza che ad esempio in un colloquio di lavoro può risultare utile anche più di un titolo di studio. Quanti anni hai? 18. Speri che sia un'opportunità. Speri che sia un'opportunità appunto per aiutarmi a crescere. Piero ha 18 anni, lo sguardo schivo e ha appena fatto richiesta per assistere gli anziani. Magda e Rossella invece sono veterane e stanno per terminare il progetto della Caritas Fai pace con il cervello. Lavoriamo 36 ore a settimana dalle 9 fino alle 16 e 30. Effettivamente è una giornata lavorativa in tutti i sensi. Io sono romana e sentivo di dover dar tanto alla mia città. Credo che mi abbia aiutato ad acquisire delle competenze che prima non avevo e quindi in quanto tale è una carta che giocherò perché è un'esperienza fondamentale della mia vita, un mattoncino molto importante. Il servizio civile si svolge su base volontaria. In passato aveva carattere obbligatorio in alternativa al servizio militare. Di recente il vice premier Salvini ha lanciato l'idea di reintrodurre la leva. Io credo che la leva obbligatoria o comunque l'ipotesi di ripristinare una leva obbligatoria sia stata una suggestione. Voglio credere che sia soltanto questa. Io evidentemente sono favorevole soprattutto al servizio civile universale e a dare sempre più opportunità ai giovani ma non nella leva.